E' stato arrestato a Termoli un ventenne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione dei carabinieri e trovato in possesso di 5 bustine di marijuana. I controlli sono proseguiti nell'abitazione del giovane dove i militari hanno trovato 50 involucri della stessa sostanza ed una busta in plastica con ulteriore stupefacenti per complessivi 172 grammi, rinvenute in oltre 5 palline termosaldate con all'interno 3 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Il tutto è finito sotto sequestro ed il ventenne è condotto nel carcere di Larino. Perché trovate in possesso di alcune dosi di hashish, eroina e cocaina sono inoltre finite nei guai 4 persone del Venafrano. La droga è stata sequestrata ma i militari indagano sulla destinazione delle dosi e sulle fonti di approvvigionamento. A Rione Rosannitico invece i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 55enne ed un 44enne entrambi di Piedimonte e Matese. Si spacciavano per rappresentanti di un'associazione sportiva facendosi consegnare ad alcuni cittadini 250 euro per l'organizzazione e la partecipazione ad una gara di pesca. Gara però inesistente. Infine a Sesto Campano i carabinieri hanno individuato tre uomini di Nola con precedenti penali a girarsi tra le case di località taverna evacuate dopo la frana dello scorso 19 ottobre. Il terzetto è stato accompagnato in caserma e sono state avviate le procedure per l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per la durata di tre anni.